Buongiorno a tutti, vediamo insieme le previsioni per sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. L'alta pressione delle azzorre presente sull'Atlantico si sta spingendo verso il Mediterraneo, costringendo il vortice polare a rimanere confinato sull'Islanda. Sabato quindi, a parte qualche debole residua nevicata nelle ore prima dell'alba sulle cime di confine fra Francia e Svizzera, avremo una bella giornata. Solo nella serata di sabato avremo delle nubi alte in avvicinamento da ovest. I venti quindi saranno deboli dai quadranti occidentali sulle Alpi e dal sud-ovest sull'Appennino. Lo zero termico si mantiene grossomodo stazionario fra i 1500 e i 1600 metri. Nella giornata di domenica la corrente a getto si porta sulle Alpi, determinando quindi un aumento della ventilazione e un aumento della nuvolosità. Nel dettaglio quindi, nella giornata di domenica, avremo qualche debole nevicata sulle tre strepine di confine dalle Alpi Cozze alle Lepontine, mentre sulle Alpi Marittime, Liguri e sull'Appennino avremo solo un aumento della nuvolosità. Lo zero termico sarà in generale aumento, fino a 1700 metri sulle Alpi occidentali e settentrionali, fino a 2300 metri sulle Alpi Marittime, Liguri e sull'Appennino. Rimanete sempre aggiornati sulla situazione meteo, guardando il sito di Arpa Piemonte, il sito di Regione Piemonte o scaricando l'App di Meteovetta. Buon weekend a tutti! Grazie! Grazie!